Il settore Charlie è in sicurezza. Aggiungiamo il segnale, lo so, è lontano. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. Resta una manciata. Stiamo attaccando l'obiettivo Bravo 1. Riccari, go! Mi non sopravvano! Mi non sopravvano! Mi non sopravvano! Seguiremo i vostri progressi. Le nostre truppe hanno il comando del settore Alpha. Controlliamo la maggior parte dei settori sul campo. Il nemico è abbattuto! È un nemico! Gli alleati stanno catturando l'obiettivo Bravo 1. Ricarico l'arma! Hanno preso il controllo dell'intero settore Alpha. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. Uno dei nostri obiettivi è sotto attacco. No, dai, non fonte! Non fai più spunti! Non fai più spunti! Dobbiamo difendere l'obiettivo Chiamateci in caso di bisogno Traffato Il nemico non riesce a consolidarsi Stiamo conquistando obiettivi Obiettivo perso Dobbiamo riprenderne il controllo Il nemico a tutto il settore Bravo Le nostre truppe stanno assaltando Bravo 1 Aiuto Se non riferiamo gli americani prenderanno sopite Il settore Delta è sotto il controllo americano Gli americani resistono ma stanno consumando risorse Stiamo attaccando l'obiettivo Bravo 1 Incaggiare il nemico Seguiremo da qui Grazie a tutti No, 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 no. La prossima volta fa più attenzione. Ce l'abbiamo partita! Allontanatevi! Difendiamoci qui! Buona fortuna, squadra! Colpiamo quell'obiettivo! Forze nemiche a Charlie 1. Centro! Nemisla a te! Fermi! Molte grazie! No! Sera! 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 Sì! Il nostro corso gratuito è un'altra scelta. Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! Evacuate a tutti! Evacuate a tutti! Evacuate le forze di Spat! è inutile! È inutile stare qui! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!